Scusate il disguido in ritardo, avviamo con l'appello, grazie. Bene, allora procedo con l'appello. Ardu Francesco, Bordoni Davide, Coi Andrea, Andrea Coia è presente, grazie. Guerini Germa, sostituita dal consigliere Allegretti. Alberto Allegretti, presente. Grazie. Meloni Giorgia, Falumbo Marco, Penna Carola. Carola Penna, presente, grazie. Grazie a lei. Politi Maurizio. Politi. Seccia Sara. Simonelli Massimo. Sturni, che sostituisce il consigliere Stefano. E Angelo presente, grazie, buongiorno a tutti. Grazie a lei. Ricchiamo di nuovo Politi. Senta, Presidente, procediamo con l'approvazione dei verbali. Ecco, i perdoni sono presenti. Ok, grazie. Procediamo con l'approvazione dei verbali. Se i consiglieri hanno letto i verbali, se i consiglieri hanno letto i verbali, se riepiloghiamo la data e il titolo del verbale della commissione, se ce li ha sotto mano. No, ricordo la data, allora, del 5 febbraio e del 22 aprile. Va bene. Allora, procediamo alla votazione del verbale del 5 febbraio. 5 febbraio è Ordu Francesco, Bordoni Davide, Coi Andrea, favorevole, Guerinige Allegretti, favorevole, Meloni Giorgia, Palumbo Marco, Penna Carola. Penna Carola, favorevole, grazie. Politi, Maurizio, Politi, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Sturni che sostituisce Stefano, Avorevole, Tempesta Giulia. Ah, in questo caso il consigliere Corsetti sostituisce la Tempesta? Guardi, è più probabile Palumbo a questo punto. Ah, va bene, sa bene. Allora, in merito ai verbali? Lì dove sono presente, dottoressa, può mettere il mio voto favorevole, cortesemente. Lì dove non sono presente, ovviamente, non partecipo al voto. Ah, va bene, grazie. Grazie, grazie. Allora, procedo con l'approvazione del verbale del 22 aprile. Beardo Francesco, Bordoni Davide, Coi Andrea. Proprivole, grazie. Bordoni ha stenuto, se mi metti a tenuto. Ah, mi dice per favore quando è entrato? Ero entrato prima, poi ho visto che andava per le lunghe, sono rientrato adesso, 11 e 28. Ah, la ringrazio. Quindi ha stenuto. Per entrambi? Esatto. Grazie. Guerrini Allegretti per Guerrini Gemma? Roberto Allegretti, favorevole. Grazie. Meloni Giorgia? Vabbè, il consigliere Corsetti, sempre con... in subordine la... Va bene, grazie. Penna, Carola. Carola Penna, favorevole, grazie. Grazie. Politi, Maurizio. Politi ha stenuto. Ha stenuto. Senza per l'altro, quello del 5 febbraio. Sempre ha stenuto. Va bene, grazie. Se c'è Sara, Simonelli Massimo, consigliere Sturni che sostituisce Stefano. Vavorevole. Grazie. Vavorevole, grazie. Tempesta Giulia. Avrei finito, grazie. Grazie Marica. Scusate di nuovo per l'attesa. Allora, siamo qui per gli ulteriori approfondimenti in merito alle delibere sulla concessione di suolo pubblico per emergenza Covid. Io, diciamo, nella scorsa commissione di venerdì con tutti i capigruppo avevamo definito un percorso comune di valutazione di tutte le proposte e di convergere su un'unica delibera consigliare. Poi, diciamo, la Giunta ha approvato due delibere. Una immediatamente esecutiva, diciamo, poi il giorno stesso o la notte stessa. una immediatamente esecutiva che già ha concesso il suolo pubblico con alcune limitazioni perché non si poteva andare in deroga al regolamento approvato dall'aula e un'altra delibera che andrà in aula quindi è una proposta che sottopone all'approvazione dell'aula più strutturata, con più deroghe che è stata trasmessa ai municipi per le espressioni di parere. Nel frattempo tutte queste proposte vanno verso i pareri degli uffici nel caso delle proposte consigliari e dei municipi e tutti, mi pare, maggioranza e opposizione sono uniti nella trovare la miglior soluzione nel breve, medio e lungo periodo per risolvere i problemi causati dalle attività produttive indirettamente da questa crisi. Quindi a questo punto ho visto la presenza dell'assessore Cafarotti darei la parola per la descrizione delle delibere in iniziativa di giunta e poi la reinizio alla discussione. Prego, assessore Cafarotti. Sì, Presidente, io sarei sintetico su due aspetti. Allora, un aspetto operativo stamattina la Polizia Locale ha fatto circolare circa in ordine ai controlli sulle OSP emergenza Covid. Sappiamo che da lunedì è già attiva online la modulistica per fare la domanda per le maggiori occupazioni solo pubblico per questa emergenza Covid. Tra l'altro inizialmente è una modulistica poi da trasmettere di APEC a tempo di record il fornitore di servizi telematici ha predisposto anche alla fine il modulo online quindi direttamente con il form online e quindi diciamo la piattaforma è completamente attiva e operante. Mi giungono notizie che già sono arrivate domande in alcuni municipi quindi questo vuol dire che è andata direttamente in esercizio con i tempi sperati e voluti. Dicevo i controlli sono perfettamente in linea con quelli che sono le prescrizioni e l'elenco che è oltremodo esaustivo di tutti i criteri da rispettare una nota di colore diciamo in settimana qualche fake news su i criteri c'è stata qualche polemica tra soggetti politici ma insomma ci sorvolerei sopra è chiaro che l'elenco è stato diciamo così dettagliato nelle varie casistiche mi spiego un esercizio e quindi entro un attimo nel dettaglio tecnico un esercizio o insiste su una strada a senso unico o insiste su una strada a doppio senso o insiste su un portico o insiste su una zona pedonale quindi siccome noi abbiamo riportato tutte le casistiche per esteso in particolare per il solo concetto e criterio dell'articolo 20 del codice della strada che diciamo disciplina quanta parte della sede stradale può essere impegnata questi sono stati raccontati mistificati da un gruppo politico in particolare come se fossero 18 mila criteri in realtà è una casistica soltanto nel caso di specie quindi questo per dire che poi alla fine diciamo i criteri sottostanti quando vai a stringere e a uniformare ne sono 11 alcuni criteri sono evidentemente come avevamo già detto facoltà dell'aula poter variare e anche in questa direzione poi c'è giunta la comunicazione dalle associazioni di categoria alla fine giusto ieri credo ci sia arrivata univoca e diciamo con dei dettagli puntuali su cui si chiede poi all'assemblea di esprimersi mi riferisco in particolare alle OSP nelle zone tariffate ovvero con la distanza dai palazzi vincolati piuttosto che altro quindi diciamo le riflessioni gli spazi di riflessioni sono in ambiti ben perimetrati con diciamo delle richieste puntuali per l'assemblea e così come ci dicemmo già in commissione commercio di qualche giorno fa e come immagino sia stato anche oggetto della riunione capigruppo l'importante è andare in discussione quanto prima ed è evidente siccome per andare in discussione in assemblea sono necessari i pareri oddio non strettamente necessari ma a rigore è bene che siano necessari i pareri dei municipi l'opera politica di impegno nei confronti degli esercenti e questo è tangibile e sicuro è l'espressione da parte dei municipi del parere quanto prima possibile perché prima i municipi esprimono parere prima si va in assemblea capitolina quindi diciamo nulla nulla più di questo aggiungo quindi diciamo per essere operativi pareri di municipi veloci parere evidentemente di commissione che mi auguro sia veloce discussione in assemblea è di tutta evidenza che il provvedimento come già avevamo modo di dire è stato parzialmente anticipato dall'aggiunta quindi il provvedimento padre è la delibera di assemblea capitolina l'aggiunta ha anticipato quello che poteva anticipare quindi questo è diciamo il messaggio che già l'altra volta avevo mandato operativamente quindi è online tutto sta funzionando le domande arrivano chiaramente per i casi diciamo eccezionali come pure lo ripeto le occupazioni a 25 metri dal dal proprio esercizio oppure l'estensione ad altri tipi di somministrazione che non siano somministrazioni in senso stretto ecco in questo diciamo la discussione poi squisitamente politica è importante nel senso che ci sono arrivate molte segnalazioni richieste per cui tutti gli esercizi che hanno somministrazioni a vario titolo potrebbero diciamo essere la platea e il beneficiario di questo provvedimento faccio un esempio una galleria d'arte con una somministrazione collegata piuttosto che una libri piuttosto che tutti gli esercizi che hanno come attività secondaria le amministrazioni nel provvedimento così come congeniato e in linea con quella che è il dettame e a rigore non possono accedere questo secondo me è una estensione un ragionamento che è giusto che sia valutato e valutabile dall'Assemblea Capitolina è arrivata anche la richiesta da parte dei laboratori artigianali alimentari quindi delle occupazioni in relazione al consumo sul posto anche questo è l'argomento secondo me di discussione che vale la pena diciamo stressare e sottolineare cos'altro dire lato nostro disponibili come detto a valutare ogni impatto di ogni variazione o emendamento che vogliate fare la cosa che mi auguro veramente nell'interesse degli esercenti che ci siano poche chiacchiere e molto lavoro grazie presidente grazie assessore io chiedo prima di dare la parola alle associazioni se i consiglieri vogliono intervenire merito allora ascolterei le associazioni presidente volevo dire due parole se era possibile prego consigliere Bordoni prego intanto ringrazio l'assessore ringrazio il presidente io non so volevo chiedere all'assessore se ai municipi avete dato l'urgenza perché il parere di norma è 30 giorni se gli avete imposto un parere d'urgenza che credo in termini di regolamento potrebbe anche essere entro i 10 giorni e poi insomma capire un attimino fermo restando il parere dei municipi e come commissione insomma io do la disponibilità di portare subito la delibera in assemblea perché mi sembra importante che dopo la delibera di giunta si dia corso con questa delibera un po' più di carattere generale che va a modificare il regolamento per quanto riguarda quella di assemblea capitolina quindi capire presidente magari per la prossima settimana una settimana abbastanza serrata affinché la commissione possa esprimere il parere o a fine settimana prossima o a inizio di quella ancora dopo portare la delibera in assemblea questa è la proposta che faccio fermo restando che poi nello specifico stiamo valutando ulteriori emendamenti migliorativi però insomma diciamo la volontà è quella di concludere il prima possibile questo iter intrapreso sia dai consiglieri con varie proposte di iniziativa consigliare sia dalla giunta sia con la delibera di giunta che con quella di assemblea capitolina grazie presidente mi perdoni prego consigliere corsetti vuole intervenire solo una cosa dato che non riesco a comunicare con voi tramite chat perché non probabilmente non essendo membro non sono in condizione di poterlo fare tu sei membro ho aggiunto tutti i consiglieri a membri del team prima di Bordoni ho chiesto di poter fare una domanda ma vedo che non riesco a partire con quindi mi dai la parola c'è scritto Orlando c'è scritto sì sì hai scritto alle 11.37 non l'ho visto adesso ho visto prego consigliere corsetti non è un intervento è veramente una domanda penso che però sia utile se non dirimente per il proseguio dei lavori prima di tutto ringrazio l'assessore Cafarotti ringrazio lei i colleghi e chi ci sta ascoltando giustamente l'assessore Cafarotti evidenziava che l'aula sarà nelle condizioni e io spero nel più breve tempo possibile di approfondire la questione e dare il via libera a una proposta diciamo maggiormente concreta passatevi il termine anche se non è correttissimo la domanda è questa è chiaro che noi possiamo intervenire su quelli che sono i criteri legati a norme che sono poste norme fatte dall'amministrazione comunale c'è questo tema della sovrintendenza che le chiederei di chiarire in maniera definitiva io ho letto due note una del 15 maggio l'ultima del 27 maggio penso che sia utile a tutti capire se i criteri posti alle sovrintendenze sono o meno vincolanti e sono meno vincolanti nel periodo previsto dal decreto del ministro Franceschini quindi se prima di affrontare le questioni ci può chiarire come possiamo andare avanti su questo grazie scusate si lo sta chiedendo all'assessore o al presidente consigliere corsetti Andrea scusami io pensavo di poterlo a te ma se c'è anche l'assessore può darci una risposta per capire quali sono i margini del lavoro nel quale possiamo lavorare grazie si faccio un preambolo poi sentiamo se l'assessore ha da aggiungere qualcosa allora la delibera su cui si basa cioè almeno la mia modifica e quelle delle opposizioni è il regolamento OSPECOSAP che forse è un regolamento che tra i più complessi che ci sono nel comune di Roma e si intreccia con moltissime relazioni l'abbiamo visto perché i pareri appunto sono stati dati già per la modifica di dicembre a sei commissioni e sei almeno sei uffici di Roma Capitale naturalmente già allora ci fu interlocuzione fitta e fattiva con tutti gli uffici che portò poi all'approvazione di un regolamento migliorativo a nostro avviso rispetto al precedente anche in questo caso ci sono arrivati alcuni pareri sono arrivati stamattina quindi non abbiamo dovuto visionarli quello della sovrintendenza è uno tra i primi che ci è arrivato poi c'è una lettera della sovrintendenza alla quale abbiamo chiesto comunque di esprimere un parere anche se non previsto da regolamento per capire insomma quale fosse c'è la posizione della sovrintendenza in merito e entrare nel merito oggi di ogni singola osservazione di questi enti è difficile ma lo dovremmo fare sicuramente posso fare un sunto dicendo che a nostro avviso sia la sovrintendenza che la sovrintendenza richiamando il codice dei beni culturali sembrano dimenticare come avevo detto l'altra volta che esistono delle eccezioni in taluni casi non sempre che riguardano del decreto del Presidente della Repubblica 31 del 2017 che riguardano i tavoli sedie e le pedane quindi qui mi ha un po' sorpreso diciamo il fatto che come dire nelle fonti normative si citino alcune fonti e si dimenticano altre e con questo per questo anche avevo chiesto un confronto in videoconferenza per parlare ad esempio con la sovrintendenza non ho avuto disponibilità però continueremo a cercare il confronto e il dialogo su questo poi sarà mia cura per quanto riguarda la mia delibera controllare i pareri e valutare eventuali emendamenti sicuramente in alcuni casi sono state scritte delle cose che sono da migliorare quindi stiamo formulando già degli emendamenti migliorativi in altri casi a nostro avviso le osservazioni non sono da accogliere quindi poi tutto ciò dovrà portare sia per quanto riguarda la delibera di giunta che per quanto riguarda la delibera cioè proposta dalla giunta all'assemblea che per quanto riguarda la delibera consigliare o le delibere consigliari dovremo entrare nel merito delle osservazioni e valutare se ci sono emendamenti che potrebbero andare nella direzione politica dei proponenti e se le osservazioni degli uffici sono da accogliere o meno è chiaro che la legge va seguita però c'è legge e legge bisogna tenere a mente tutto il panorama legislativo e normativo esistente non solo una parte altra cosa che ha detto il consigliere Bordoni mi pare che il termine ridotto sia 20 giorni e municipio e non 10 però questo ripeto noi andremo nel modo più veloce possibile per tutte le proposte che siano di giunta o consigliari perché riteniamo che sia emergenziale la volontà cioè l'esigenza di esprimere il parere dell'aula in merito a tutte queste delibere Assessore Cafarotti se vuole intervenire in merito alle domande e osservazioni dei consiglieri Bordoni e Corsetti Assolutamente sì Presidente sarò spero veloce allora prima cosa sì consigliere Bordoni ho chiesto i termini urgenti per i pareri che il segretario ha messo a 20 giorni va da sé che un municipio non è costretto a esprimersi il ventesimo giorno per farlo anche il terzo quindi in questa idea è possibile anche andare solleciti più solleciti dei 20 giorni e quindi discutere come le dice la prossima settimana è un obiettivo fattibile tranquillamente l'importante è che i municipi si sbrighino consigliere Corsetti la risposta è articolata ma nel contempo semplice lei deve sapere che il sottoscritto sarà mosso già per tempo ad aprile su questo lavoro e quindi facendo un percorso condiviso con sovrintendenza e sovrintendenza percorso condiviso di revisione o meglio di creare una checklist nota e costante per avere i criteri da loro richiesti in maniera flessibile dovuta all'emergenza per la concessione a questo ed è mi scusi aggiungo con il traguardo del 31-12-2020 cioè quindi è stato dichiarato quindi messo al centro del tavolo sia con la sovrintendenza che con la sovrintendenza nonché con la polizia locale ragazzi dobbiamo arrivare con queste misure emergenziali di OSP fino al 31-12-2020 che cosa vuol dire? vuol dire che o meglio qual è stato l'esito del tavolo l'esito del tavolo è quel set minimo ma proprio minimo dal punto di vista della sovrintendenza e della sovrintendenza dei criteri che loro hanno chiesto e chiedono badate bene a questo lavoro che ripeto è partito oltre un mese fa si è aggiunto il DL rilancio che cosa dice il DL rilancio dice guarda i pareri della sovrintendenza e della sovrintendenza non sono richiesti di fatto questo ha prescritto il DL rilancio ma non sono richiesti in quale fascia temporale fino al 31-10 del 2020 allora noi per diciamo così correttezza e ordine d'impianto nella ipotesi e nell'idea che comunque sia un valore avere diciamo dei criteri da sovrintendenza e sovrintendenza fino al 31-12 noti e ex ante quindi non stiamo chiedendo dei pareri ex post è questo poi il valore della delibera che le cose essendo tutto in modo ex ante io posso diciamo così fare domanda e occupare il giorno stesso e il giorno dopo e in quest'ottica ritengo che l'accordo con la sovrintendenza e la sovrintendenza siccome traguarda una una fascia temporale che va oltre il DL rilancio che è proprio il 31-12-2020 va da sé che a mio avviso deve essere fatta salva questo inquadramento e diciamo così le richieste puntuali di sovrintendenza e sovrintendenza detto però che è chiaro che per quanto riguarda il DL rilancio se io occupassi fino al 30 di settembre non avrei neanche bisogno a rigore di rispettare quello e aggiungo lei dice correttamente l'aula potrà derogare a ciò che gli è di competenza quindi alcune cose che ho letto queste sì fantasiose non è possibile derogare al codice della strada cioè in curva o su un semaforo non potrò mettere il tavolino ma per questioni di sicurezza stradale evidentemente quindi può essere fatto ciò che è proprio dell'Assemblea Capitolina in delibera di Assemblea Capitolina spero di essere stato chiaro Corsetti se non lo sono stato la prego di dirmelo e provo ad argomentare in maniera diversa ok una notazione tecnica per la segreteria io vedo il pulsante di registrazione avviata ma non vedo il contatore del tempo vabbè poi spero che si stia tutto registrando no no io lo vedo ah ok 55 e 21 perfetto perfetto allora solo io che non riesco a vederlo anche io lo vedo grazie e ha chiesto la parola un'associazione PICA di Fiepet Confesercenti prego Presidente grazie Presidente l'assessore Caparotti e tutti i consiglieri dell'assemblea capitolina porto soltanto questo esempio attualmente l'esercente sento rumore continuo ad andare disattivate i microfoni per favore poi c'è la 27 con la 9 niente Andrea è Asci con film prese che fa rumore pronto? Asci se può disattivare il microfono benissimo ok prego grazie grazie l'esercente giustamente oggi fatica ad andare avanti tra dei liberi di giunta tra dei liberi da approvare in assemblea capitolina o modifica di regolamento le stesse associazioni dopo un incontro a tutti i consiglieri che abbiamo avuto questa settimana con la sindaca ci siamo permessi di trovare o di portare alcune richieste alla sindaca e allo stesso Cafarotti affinché la stessa giunta o la nostra sindaca potesse superare alcune problematiche riguardanti i pareri della sovrintendenza e sovrintendenza soprattutto per quanto riguarda i palazzi quelli vincolati abbiamo chiesto anche di superare il vincolo delle ospe in zona tariffate e eventualmente trovare il sistema per derogare sin da subito in attesa della modifica del regolamento del catalogo degli arredi questo perché effettivamente gli esercenti hanno fatto diverse domande ma i loro tecnici anche ringraziamo Caparotti aver dato la possibilità di mettere sin da subito i tavolini con la delibera di giunta però effettivamente questi vincoli che si vanno a intrecciare di loro poi effettivamente non permettono di usufruire effettivamente di questo 35% quindi io quello che chiedo alle opposizioni in maggioranza stessa cerchiamo di evitare strumentalizzazioni politiche anche ai stessi municipi di accelerare questo percorso anzi vorremmo anche sapere quali sono i municipi che stanno di fatto rallentando la possibilità degli esercenti di poter esercitare tranquillamente la loro attività e anche eventualmente di superare questa lettra del 27 maggio che io oggi ho preso visione che effettivamente di fatto crea delle problematiche agli stessi esercenti cioè quasi a vanificare il decreto rilancio o a vanificare quanto detto dagli attuali regolamenti sia comunali che anche statali quindi io vi dico signori le aziende stanno al collasso soprattutto al centro storico ci sono default in arrivo le banche da poco hanno iniziato a erogare questi famosi 25 mila euro purtroppo ci sono anche delle fake news che trovo riprovevole da parte anche di qualcuno che sta giocando sul fatto dell'incasso reddito costi e ricavi che leggo delle cose allucinanti e quanto prima forse cominceremo a rispondere in maniera dettagliata in questo momento come associazione abbiamo preferito non rispondere anche a dei consiglieri che si sono permessi sia Capitolini che lo stesso anche del municipio a contestare comprende anche i residenti la fatica degli operatori che non riescono ad andare avanti la fatica a poter assumere i propri direttenti e anche Presidente le conviene spegnere il microfono Presidente Grazie la fatica per le persone anche di assumere quegli stagionali che per noi non sono vitali ma sono vitali per loro stessi perché tanti ragazzi approfittavano di questi mesi per pagarsi gli studi quindi o il nostro politico di maggioranza opposizione non riesce a capire tutto questo e si trincera dietro questi criteri che io trovo assurdi o anche questa letta trova assurda dei nostri beni culturali che mettono ulteriori lacci alle imprese e quindi veramente non riesco a capire questo accanimento sono ormai tre settimane che sento dire la maggioranza opposizione facciamo un documento unitario ci troviamo a fine maggio dopo tre settimane di dibattiti di fatto abbiamo la delibera di giunta che secondo me ha assolto un buon 70-80% non la panacea per noi sergenti e qua forse tutto andrà bene arriveremo a fine giugno io vi dico mettetevi la mano la vostra coscienza la mano sul vostro cuore e pensate che le nostre attività che rappresentano la città di Roma un PIL molto importante che forse potremmo recuperare a marzo del 2021 ecco perché chiedo ultimamente formalmente anche nel regolamento e poi entreremo anche nel regolamento di trovare due soluzioni una disposizione transitoria che potrebbe arrivare al 31 dicembre ma poi nel guardare anche una proroga ma una proroga molto facile per il 2021 perché abbiamo effettivamente difficoltà abbiamo avuto ritardi nell'entrare nella chat ma io stavo qui con l'esercente mi ha fatto vedere che da marzo a maggio completo nonostante abbia riaperto ha perso l'86 l'88 e il 92% dei propri incassi parlo di incassi e senza incassi i costi rimangono diventano perdite perché qui purtroppo qualche consigliere anche qualche residente ha detto ah già hanno recuperato tutti i soldi e posso permettersi di spendere quindi sono provocazioni di cattivo gusto che trovo alquanto antipatiche da parte veramente di qualche anche consigliere capitolina ma giustamente per un anno ci ricorderemo e metteremo manifesti di quello che cosa hanno detto perché adesso farò personalmente io tutti i screenshot e poi andremo a verificare cosa hanno detto questi eh bravi consiglieri anche nelle stessi eh commenti anche in queste commissioni che da una parte dicono una cosa e poi dall'altra fanno dell'altra quindi non è una provocazione la mia effettivamente sono stanco eh perché i diritti gli enti locali sono problematiche anche da studiare penso avete anche voi avuto difficoltà io ho chiesto personalmente alla sindaca di capire bene la prassi da fare ma quello che chiede la maggioranza opposizione unita e quindi arriviamo la settimana prossima eh sfruttiamo anche di lavorare il 2 giugno che è la festa delle repubbliche italiane festa di tutti gli italiani quindi effettivamente di maggioranza opposizione che questa festa almeno spero che tutti eh alla costituzione diritto al lavoro diritto al lavoro diritto alle imprese ma al lavoro per tutti il lavoro per le imprese qui veramente state giocando sulla nostra testa questo non ve lo possiamo più permettere la settimana prossima personalmente eh valuterò tutto il da farsi io oggi rimpio scendo in piazza con i gelatieri ma una protesta dolce perché i gelatieri anche lì sono stanchi che non riescono eh dalla parte dell'amministrazione a trovare una quadra del poter aprire la propria attività oltre mezzanotte sta partendo una lettera chiara sia a Caffarotti quindi lo preannuncio maggioranza opposizione se volete mangiare un buon gelato perché è una protesta dolce non è una protesta di picchetti non è una protesta provocatoria daremo in omaggio il gelato lì al Marco Aurelio perché le attività cominciano a essere stanche di questi diciamo canavacciuoli del di questi piccoli regolamenti del politico ma dell'amministrazione stessa centrale ma anche dei municipi e quindi quello vi chiedo e finisco di fare fretta e chiedo formalmente al presidente Coglia di chiedere perché non abbiamo i numeri io ho timore che parecchi esercenti sono anche affidati a geometri poco anche accorti hanno fatto dichiarare il falso vedo delle cose che secondo me non potono essere concesse chiedo quindi al presidente Coglia di tenere al corrente anche l'associazione perché noi giustamente abbiamo una forte rappresentanza ma non totalitaria quindi non vorremmo sapere dei municipi quante domande sono state già presentate e sapere quali sono i municipi che rallentano il percorso della commissione poi farò un intervento più tardi ma per ora chiedo soltanto e chiudo che la settimana prossima vada le delibere in assemblea capitolina grazie grazie sicuramente almeno varie volte tutti i membri dell'assemblea hanno manifestato la volontà di fare un percorso celere questo naturalmente va dimostrato sul campo noi stiamo monitorando come abbiamo detto tutto il percorso delle delibere cercando di accelerare l'iter di tutte le delibere naturalmente ogni ente io ho chiesto faccio un esempio proprio banale ho chiesto agli uffici di rendere i pareri nel più breve tempo possibile due uffici hanno mandato il parere in pochi giorni e altri uffici si sono presi tutti i 15 giorni previsti quindi questo può accadere con un ufficio può accadere con un municipio che sono entità che nell'ambito della loro competenza poi possono o meno tener conto dei solleciti politici che ricevono Presidente scusi prima che finisce quando finiscono questi giorni del procedimento amministrativo del parere degli uffici allora per le delibere consigliari credo che scadano oggi per la delibera di giunta non sono stati necessari perché la prima delibera di giunta è stata porta con sé già il parere degli uffici e quindi credo sia stata trasmessa forse una settimana fa se c'è ancora l'assessore lo può confermare ai municipi per l'espressione di parere quindi posso permettermi da quanto ho sentito hanno 20 giorni quindi in teoria avendo percorso i giorni già passati posso chiedere a maggioranza opposizione o alla stessa maggioranza che la settimana prossima o ai capogruppi visto che ci torna anche qui di capogruppi in commissione si possa arrivare al dibattito all'assemblea diciamo che la scadenza del parere sulla delibera di giunta sono altri 13 giorni e possiamo chiedere tutti o ciascuno per il proprio gruppo ai municipi di dare più celerità nell'espressione di parere anche lì dovrà passare nel consiglio competente e nel consiglio no presidente scusi però ho chiesto di intervenire non so se è possibile farlo ora o aveva qualcun altro prenotato controllo un attimo sì ho due prenotazioni però vada allora due cose intanto mi scuso perché purtroppo mi devo collegare non da casa ci tenevo a dire due cose anche alla luce dell'ultimo intervento del dottor Pica allora io credo che tutte le forze d'opposizione abbiano da subito da appena depositate le delibere la nostra è stata depositata il 9 di maggio chiesto un percorso accelerato addirittura io ero arrivato a proporre nella scorsa commissione l'idea che se c'è un accordo di tutti i capigruppo si poteva pure come dire uso questo termine saltare i pareri dei municipi e andare direttamente in aula qualora ci fosse un accordo unanime di tutte le forze politiche ho pure fatto questa proposta perché da subito ci rendiamo conto ci siamo resi conto che il tempo non è una variabile innocua in questo caso ma è determinante e a fianco al tema del tempo c'è il tema di far uscire un provvedimento che possa dare una base normativa solida e per evitare che poi la delibera di turno possa subire dei ricorsi che la riblocchino o che i commercianti che fanno gli investimenti per mettere i tavoli fuori possano a loro volta subire dei ricorsi quindi celerità urgente e base normativa solida in commissione si è avviato un percorso oggi pomeriggio alle 15 ci dovrebbe essere la capigruppo quindi tra poco che dovrebbe confrontarsi sulla delibera Cafarotti e sulle altre delibere noi abbiamo pure preparato già degli emendamenti da proporre al testo Cafarotti ma anche al testo Coglia e l'idea che da subito avevamo detto è cerchiamo di prendere la delibera che sta più avanti nel percorso modificarla tutti insieme nella capigruppo e portarla di corsa in aula questa è la proposta che ribadisco ancora oggi che da capogruppo oggi alle 15 nella capigruppo riporrò sul tavolo perché è evidente che se si riesce a trovare una sintesi il percorso poi d'aula è più semplice anche per evitare che qualora non si trovasse una sintesi tutte le delibere andassero al vuoto prima l'una e poi l'altra in modo slegato in aula mettendo i commercianti in una posizione di star lì ad aspettare qual è il provvedimento alla fine che fa giurisprudenza perché magari viene approvata una delibera la settimana dopo un'altra cambia le regole sarebbe un caos e credo che sia irresponsabile fare una cosa del genere ma credo che nessuno di noi né maggioranza né opposizione abbia questa voglia noi tra l'altro avevamo preparato per oggi per adesso in commissione ma anche per la capigruppo di oggi degli emendamenti ripeto anche alla delibera Cafarotti e tra questi emendamenti c'era il tema di alzare fuori dal sito unesco al 50% la possibilità dell'estensione dell'occupazione di solo pubblico c'era il tema di eliminare dalla delibera delle linee guida Cafarotti il discorso dei criteri con sovraintendenza e sovraintendenza che sono propedeutici all'istruttoria delle domande eliminare certo quelli non relativi al codice della strada è ovvio la provocazione che ha fatto l'assessore Cafarotti diciamo è chiaro che non è che noi possiamo eliminare il tema della curva il tema del passaggio dell'ambulanza quelli no però tra i 33 criteri ci sono dei criteri che sono derogabili addirittura eliminabili perché il decreto l'articolo 181 del decreto ultimo che è uscito lo consente normativamente così come sul tema del tempo volevamo avvicinare l'esigenza legale che garantisce il parere positivo degli uffici statali e comunali di rispettare le tempistiche del decreto sul tema della deroga al parere delle sovraintendenti nello stesso tempo con l'esigenza di avere un periodo più lungo e quindi si poteva pure trovare la formulazione che diceva che diceva sono un periodo più lungo salvo variazioni di legge statale questa poteva essere un'idea ecco e poi il tema delle categorie berceologiche e quindi cogliere l'apertura alle librerie o alle somministrazioni che sono quelle non so delle rosticcerie ma non aprire a tutte le categorie merceologiche ecco io dico siccome abbiamo tutti le idee chiare abbiamo studiato molto siamo andati a fondo sulla materia io penso che noi oggi nella capigruppo dovremmo cogliere l'occasione perché ci sarà il presidente coia ci sarà l'assessore ci saranno tutti i capigruppo di puntualizzare il percorso e cercare di far sì come dicono anche le categorie che già magari dalla fine della settimana prossima possa arrivare in aula un testo che magari abbia già avuto l'istruttoria la sintesi l'accordo delle forze politiche possa essere un testo che dà una risposta temporale veloce ma anche una base normativa solida che la metta a riparo dai ricorsi ecco io credo sia importante questo aspetto perché coglie anche quello che è l'istanza più volte rappresentata tutte le categorie ma che noi stessi da subito abbiamo fatta presente quella anche dell'urgenza temporale quindi volevo chiedere e chiudo se il percorso che quindi abbiamo in mente è questo quello che avevamo detto la commissione scorsa ovvero la capigruppo con l'assessore e il presidente della commissione oggi alle tre dalla quale secondo me possiamo capire qual è il testo sul quale noi dobbiamo fare le modifiche è quello Caffarotti perché è più avanti con i pareri degli uffici è quello Coglia è quello Pelonzi signori il punto in questo momento penso che tutti abbiamo chiaro è che non è che ci deve essere un partito che dice il mio testo è la mia idea perché la lotta politica in questo momento va messa da parte e ci si deve concentrare sul dare la risposta a questa categoria in forte crisi chi vuole fare il più bello sul proprio testo sbaglia bisogna prendere gli elementi migliori di tutti i testi che stanno in campo unirli in una sintesi tra capigruppo presidente la commissione assessore e andare di corsa in aula anche perché è chiudo davvero facendo così anche il percorso nei municipi i pareri dei municipi degli uffici sarebbero non solo più ceneri ma anche uniformi perché avrebbero un unico indirizzo politico oggi noi abbiamo gli uffici e i municipi che sono presi tra la normativa che è già complicata di suo e in più che hanno in campo quattro testi di delibere che dicono quattro cose diverse sui tempi sulle categorie mercologiche sull'estensione sui siti unesco e credo che pure i municipi e gli uffici li mettiamo in confusione sull'espressione dei pareri avere un unico punto di caduta semplificherebbe il tutto per cui la mia domanda è finito se tutti quanti noi come spero auspico io do per primo la disponibilità mettendo da parte le demagogie gli scontri politici anche normali maggioranza e opposizione è quello di partire da oggi alle tre da questa benedetta capigruppo che aspettiamo da una settimana con tutti i soggetti in campo forze politiche commissione col presidente e l'assessore e di capire qual è il testo modificarlo e portarlo immediatamente in aula il tempo è scaduto noi siamo pronti ripeto a essere costruttivi e ci deve essere ovviamente un'uniformità di proposizione anche da parte della maggioranza e questo è il punto perché se mi posso permettere un'unica nota è quella che ci va vuole c'è un dialogo serrato dentro l'amministrazione e tra le forze politiche ecco se potete rispondermi su questo vi ringrazio sì allora intanto da un lato dispiace vedere che da venerdì scorso qualcosa è cambiato il fatto che sia stata presentata una delibera di giunta non cambia a mio modo di vedere il percorso che ha modellinato a meno che qualcuno non abbia delle motivazioni più valide di quelle che sono state espresse finora e mi spiego nel dettaglio forse si ignora o si vuole ignorare il fatto che esiste però una grande differenza tra la delibera di giunta e ad esempio la mia proposta è quella dei fratelli d'Italia mentre c'è un'analogia maggiore con quella del PD e dico anche in quali caratteristiche le caratteristiche di entrambe sono tutte e due unicamente temporanee limitate nel tempo e limitate appunto alla norma straordinaria quello che ho detto nella commissione di venerdì sapendo che sarebbe stata approvata comunque una delibera di giunta per norma temporanea è che è necessario rivisitare il regolamento OSPE COSAP anche nella parte ordinaria e la mia proposta e mi sembra anche quella dei fratelli d'Italia fa anche questo l'estensione alle categorie ad esempio delle librerie e del fuori della città storica del consumo sul posto laboratori artigianali è un qualcosa di necessario nella norma ordinaria perché è cambiata la forma di commercio che c'è nella città non è solo una norma straordinaria il discorso dei criteri minimi mi vede d'accordo perché sinceramente vedo che anche i minimi faticano a essere digeriti da alcuni uffici ma evidentemente almeno fino a ottobre c'è una deroga totale a quelli che sono appunto i criteri di tutela del patrimonio artistico culturale a meno della vicinanza dei monumenti quindi nella mia ho messo solo il codice della strada e la distanza dei monumenti ma per se per monumenti come ho letto nel parere della soprintendenza ci mettiamo anche i palazzi storici allora sappiate che Roma la città storica è fatta di palazzi storici questo equivale a dire non mettete occupazioni di suolo pubblico nella città storica allora da un lato si fa finta di dare dall'altro si cala la tagliola per bloccare o non rinnovare tutte le occupazioni di suolo pubblico questo non lo possiamo permettere perché questa non è la volontà politica di questa amministrazione la volontà politica è l'equilibrio tra attività produttive e bene della città che è inteso anche come decoro e il decoro non significa no tavolini no pedane significa tavolini e pedane fatte in una certa maniera che rispettano determinati criteri questo è per il Movimento 5 Stelle il decoro della città e questo lo voglio ribadire quindi ripeto per il Movimento 5 Stelle ritengo sia importante dare immediatezza emendando la delibera di giunta che però è una normativa transitoria e nel frattempo anche con più calma modificare anche la norma ordinaria avevo diverse persone avevano chiesto la parola consigliere De Priamo o consigliere Allegretti prima De Priamo consigliere De Priamo ecco ecco il Presidente ok sì guardi veramente diciamo che chiaramente noi lo abbiamo detto lo stiamo continuando a dire siamo assolutamente convinti che bisogna fare il più veloce possibile quindi il documento che noi abbiamo presentato in realtà è anche il nostro ma è vero nei contenuti è molto più vicino al suo che non agli altri due documenti vuole essere un contributo quindi chiaramente non serve ad appesantire in nessun modo i lavori quello che ci interessano sono i contenuti la nostra proposta che faremo nella conferenza capigruppo alle 15 è quella di dedicare il prima possibile una sessione interamente al commercio per noi andrebbe benissimo farlo anche tutta la prossima settimana non perché gli altri temi non siano importanti ma in questo momento questa partita tra virgolette la dobbiamo chiudere nel senso che non possiamo mantenere una situazione transitoria in base ad una delibera di giunta che è peraltro molto secondo noi fragile per certi aspetti ad esempio questi criteri che abbiamo sentito minimizzare l'assessore ma che invece sono evidenti e non sono una forza politica o più forze politiche che hanno criticato ma sono proprio gli operatori contenti da un lato perché finalmente hanno avuto uno strumento esecutivo ma altrettanto puntuali nel segnalare almeno alcune di quelle condizioni come non obbligate dall'articolo 181 del decreto rilancio quindi il punto nostro forte di contestazione rispetto all'assessore caffarotti ma anche alla delibera del Partito Democratico è che riteniamo che il decreto non sia incompatibile con alcune deroghe relativamente ad esempio alle percentuali non troviamo questa percentuale del 35% nel decreto non troviamo una serie di vincoli che invece troviamo nella delibera quindi questo sarà un po' il senso dei nostri emendamenti su tutte le delibera caffarotti e anche laddove è presente qualche elemento in questo senso sulla delibera del presidente Coglia il tema anche delle strisce blu nessuno ovviamente parla di deroghe del codice della strada intesa come pericolo in talcia per la circolazione perché questo non mi sembra che l'abbia proposto nessuno neanche tra gli operatori ma altre cose sono ad esempio quella dell'utilizzo delle strisce blu o altri elementi di questo tipo o l'utilizzo di strada diciamo dove non sia presente il marciapiede questi sono alcuni elementi che per noi sono importanti su cui entro la prossima settimana completeremo tutti i nostri emendamenti sia l'una che l'altra delibera e quindi diciamo andiamo il più veloce possibile a votare sia la delibera diciamo di giunta e sia le delibere di consiglio io comprendo presidente che lei ritenga anche per rispetto del lavoro che ha fatto indubbiamente di voler andare anche con la modifica di regolamento diciamo di vari passo l'importante ma credo che lei da questo punto di vista non ne sia consapevole lo spero ma lo credo anche che questo non significhi allentare diciamo quella di giunta che pure io non condivido ma che almeno è uno strumento quindi dovremmo anche chiedere questo chiederemo a un capigruppo che tutte le forze politiche chiedano in questo momento al segretariato ma chiaramente anche ai municipi un lavoro concentrato su tutti questi atti perché votarli in tempi differiti secondo me creerebbe confusione e invece c'è bisogno di certezza più che mai oggi quindi poi tutta una serie di altri elementi anche per quanto riguarda la deroga ad altre categorie come quella dei liberi o come quelle di somministrazione diciamo diversa su questo noi siamo pronti non ci deve essere nessuna esitazione concludo soltanto appunto dicendo all'assessore non c'è nessuno che metta in giro fake news qui si ragiona sulla certezza dei fatti la sua delibera delibera l'assessore adesso poi non è presente ma insomma consente è vero ha consentito di fare le domande ma rischia a nostro avviso di essere tra virgolette un trabocchetto nel senso di uno strumento apparentemente buono ma che poi prevede come si diceva il biscotto cioè che dopo si torna quasi diciamo sull'ordinarietà e quindi molte di quelle domande potranno successivamente avere dei problemi non lo diciamo come auguro tutto il contrario però arrivando poi in aula con dei documenti migliorati forse riusciamo a fare sicuramente una cosa più utile e più consona all'urgenza perché paradossalmente l'urgenza che hanno oggi gli esercenti necessita di strumenti certi perché se con l'urgenza diamo degli strumenti che poi hanno diciamo un riesce della medaglia negativo rischiamo di fare peggio infine concludo veramente per quanto riguarda il tema che ha citato il dottor Pica del tema degli orari per quanto riguarda il gelatario in particolare in modo per il periodo della stagione estiva segnalo Presidente che noi abbiamo presentato una mozione che chiede appunto di ampliare l'orario di chiusura almeno alle 23 e naturalmente non è una mozione di bandiera io la invierei se lei la condivide la può modificare la può fare diventare mozione di commissione noi come sa non siamo in commissione comunque io oggi in capigruppo chiederò che venga portata in votazione al primo consiglio perché ovviamente ha senso se si fa subito e quindi anche quello come tanti altri temi legati all'emergenza secondo noi va affrontato in modo immediato con una risposta semplice e chiara ma coerente con l'esigenza che ha quella categoria come l'altra di poter lavorare in questo momento grazie grazie consigliere De Priamo sì valutiamo la richiesta come mozione io so che la sindaca e l'assessore stanno già pensando a una rivisitazione dell'ordinanza degli orari ma ben venga insomma a far presente questa esigenza da parte di questa categoria che sicuramente in questo momento come altre è messa sotto a dura prova insomma da questa situazione e importante dire una cosa che negli incontri fatti con la sindaca con l'assessore con gli uffici gli stessi uffici hanno raccomandato l'importanza essendo una delibera cominciamo anche un po' con pareri contrastanti degli uffici che il percorso sia blindato loro dicevano comunque che sarebbe bene avere il parere di tutti i soggetti o far scadere i tempi dei pareri questo va in contrasto un pochino con l'esigenza della celerità che abbiamo visto però è opportuno parlarne anche in capigruppo con l'assessore per capire se poi sono superabili questi tempi quindi se ci conviene ridurre di quella decina di giorni che potremo guadagnare o se ci conviene aspettare questi dieci giorni per gli emendamenti che mi sembra che tutti vogliamo fare per estendere insomma la portata di questa delibera grazie consigliere Allegretti vuole fare una domanda dunque sì io intervengo per dire che effettivamente diciamo si è creata una gran confusione mi dispiace per l'assessore con questa doppia delibera mi sono arrivati allarmi dal primo municipio che appunto ci sono attacchi perché dovrebbe essere approvata la delibera definitiva quindi io sollecito ad arrivare a un accordo o comunque una delibera che venga approvata in aula il prima possibile perché diciamo è chiaro che si espongono i fianchi a delle attacchi delle forze politiche dicendo che la delibera di giunta è monca mancano delle determinazioni queste cose qua ed è difficile spiegare perché poi chiaramente questo viene nell'interesse non solo della città ma anche degli esercenti cioè è ovvio che noi almeno io sono sensibile al decoro della città e a tutto e al fatto che il tempo da parametro fisico che misura grandezze fisiche viene a misurare delle grandezze economiche cioè il fatto della perdita di valore delle attività e della perdita economica di queste attività quindi prima di tutto voglio sensibilizzare tutti al fatto che non è assolutamente il parere della sovrintendenza o della sovrintendenza che garantisce il decoro della città questo lo possiamo vedere benissimo dalla copertura dell'ex unione militare alle pensiline a via del corso in palazzi storici che sono di protezione assolutamente ma comunque questo sta alla sensibilità degli operatori che poi intervengono a seconda delle delle linee guida degli arredi che vengono dati anche Ficca l'ha ammesso che ha visto delle realizzazioni poi non conformi con l'idea del decoro del centro urbano perciò vi invito in capigruppo di cercare di trovare una una modalità per arrivare a una comune o non comune insomma comunque più veloce possibile cioè per accorciare questo parametro temporale in maniera da facilitare tutti anche nell'espressione delle delle consulenze ai consiglieri municipali che si mettono le mani dei capelli e non sanno come fare bene grazie grazie consigliere Allegretti però mi lasci dire una cosa nel senso che i municipi hanno mi rendo conto che poi leggere una delibera complessa in poco tempo non è facile però hanno il dovere penso di esprimere il parere il dovere morale nei confronti delle attività produttive nel più breve tempo possibile nel modo migliore possibile quindi con competenza il compito di ciascuno di noi è molto complesso però la cosa migliore che possono fare è esercitare il loro ruolo nel più breve tempo possibile e dare prova che non vogliono rallentare l'iter della delibera questo vale sia per la delibera di giunta che per le delibere consigliari che arriveranno per espressione di parere quindi come dire come ha detto anche l'assessore come hanno detto anche altre persone dal momento che arriva l'espressione di parere uno a parte che lo può anticipare e io le delibere di consiglio le ho già anticipate ai municipi quindi già ce le hanno a prescindere quindi potrebbero leggerseli da questo momento non dal momento di trasmissione poi dovranno tener conto casomai dei pareri degli uffici a riguardo ma sono nelle condizioni di poter esprimere il loro parere in termini di giorni e la loro responsabilità è nei tempi dell'espressione di parere siano essi municipi di maggioranza o di opposizione Presidente scusi sì ho altre persone che mi hanno chiesto la parola ma sono un flash sì sì perché io non capisco torno a chiedere una risposta alla mia domanda perché influenza tutti i ragionamenti successivi cioè l'ha detto adesso pure il consigliere Allegretti se tutte le forze politiche hanno dato la disponibilità a fare una sintesi a partire dalla capigruppo che c'è tra due ore e mezzo tra 90 anni e come lei ha detto i municipi stanno avendo quattro testi di delibere sui quali ancora devono avere anche i pareri degli uffici io penso che veramente Presidente rinnovo la domanda ma scusi Presidente ma non siamo noi prima che gli uffici prima che i municipi che devono esprimere parere a dover dare un'indicazione chiara cioè la responsabilità è nostra è della Giunta è della Commissione è della maggioranza no voglio dire quindi più che dire i municipi si sbrigassero gli uffici si sbrigassero ma sbrighiamoci noi a trovare una sintesi su un testo unico ed eliminiamo le confusioni a tutti che di conseguenza si comporteranno cioè il problema nasce dal fatto che ci sono quattro testi diversi e una delibera quella della Giunta che intanto è vigente risolviamo questo problema a partire da oggi alle tre e mezza se noi risolviamo questo su qualunque testo perché poi anche qui lei ha detto Pdco Caffarotti Fratelli d'Italia quella di Libera Coglia non ho detto questo ho detto mi scusi ho generalizzato similitudini ecco noi siamo pronti a superare tutte le barriere siamo pronti a sederci e a trovare la sintesi su un testo affinché non facciamo questo noi che siamo il Consiglio Comunale e la Giunta ma non è che poi possiamo dire i municipi su ritardo gli uffici su ritardo perché questi stanno di fronte a quattro testi e da votare che non hanno ancora i pareri degli uffici e intanto una delibera vigente che ha pure dei criteri che smettiscono la delibera stessa ma smerichiamoci noi a vederci a trovare una sintesi e a dare un quadro chiaro su qualunque testo magari un testo scritto tutti insieme punto Sì capisco la posizione del Consigliere Pelonzi ribadisco oggi alle tre e anche primi giorni di prossima settimana possiamo trovare anche una strada per emendamenti comuni alla delibera di giunta lì non vedo grandi difficoltà se non ripeto sulla durata perché l'unico difetto che vedo è la durata e sul fatto delle modifiche permanenti che dovranno venire in un secondo tempo quelle sono secondarie ma non sono secondarie di importanza sono secondarie temporalmente perché in questo momento è più importante dare urgenza all'attuazione delle norme che permettano il rilancio delle attività produttive quindi io i miei emendamenti li porterò e chiedevo appunto a lei al consigliere De Primo che ci stavate lavorando se avevate già emendamenti o proposte di emendamento le rivediamo insieme e decidiamo come portarle avanti insomma anche con l'aggiunta in maniera tale che non si crei un conflitto che poi genera ritardo insomma questo per la parte capitolina poi per quanto riguarda i municipi vale lo stesso discorso insomma quindi spero che si faccia un discorso unitario per poter dare velocità e anche porre osservazioni perché no perché questo è il ruolo dei municipi quindi che sia a parere favorevole o contrario si possono porre osservazioni all'attenzione dell'ente capitolino che poi le valuta e magari le traduce in ulteriori emendamenti benissimo benissimo procediamo procediamo ok Presidente Sì ciao Pescetelli che vuole intervenire Capone e solo per dare un'informazione perché vedo che poi i colleghi dichiarano cose inesatte io ho presentato la mia proposta di delibera quindi le delibere sono cinque non sono quattro quindi vi pregredo oggi insomma da lei e l'ha riscritto giustamente in chat non c'è ancora arrivata perché come ha scritto lei protocollata il 27 minimo due giorni per mandarla ci vogliono lei me l'ha consegnata stamattina lo so no no era solo per per portarvi a conoscenza e per quindi mettermi nelle condizioni di poter partecipare grazie certo certo allora la parola al assessore pescetelli del primo municipio sì grazie buongiorno io tralascio tutte le le polemiche chiedo solo una cosa perché soprattutto il primo municipio è una tematica importante per un chiarimento nella delibera di giunta si dice che sono sospesi i piani di massima occupabilità la domanda a cui vorrei avere una risposta perché ci viene chiesto è laddove un ristoratore aveva una occupazione di coro pubblico derivante da un piano deve fare una richiesta dell'aumento del 35% su quel piano o essendo sospesi i piani viene meno la sua occupazione e quindi deve fare una nuova richiesta di occupazione pari al 35% dell'interno del locale se mi potete rispondere perché come potete immaginare è una domanda che ci fanno in tanti e non non è chiaro dalla delibera cosa il municipio deve fare e per il dipartimento è presente qualcuno che può rispondere alla domanda allora non abbiamo possibilità in questo momento chiedo alla segreteria magari di formulare uno specifico quesito al dipartimento per rispondere poi appena avremo la risposta e non trarla al municipio ve ne sarei grato va bene Marica scusa prendiamo nota per la segreteria di iscrivere al dipartimento per capire se sui piani di massima occupabilità si debba intendere un un ampliamento come nuova concessione poi lo risentire insomma anche dalla registrazione è capire quando si dice sospensione dei piani cioè il titolo che hanno in mano adesso è valido o no a mio avviso io do un'interpretazione si può ampliare però attendiamo la risposta degli uffici competenti insomma questo io do una risposta logica che potrebbe anche essere smentita dagli uffici per carità no no Presidente proprio per quello anch'io posso dare una risposta logica ai ristoratori che me lo chiedono però purtroppo essendo un'amministrazione non siamo quelle persone titolate a darla certo grazie di nulla la parola all'assessore Capone che l'aveva chiesta dell'ottavo municipio grazie Presidente mi spiace che non ci sia più l'assessore Cafarotti veramente molto velocemente io concordo con quello che diceva il consigliere Pelonzi io a un municipio li ho già letti tutti i testi mi manca solo quello del consigliere Corsetti e sono insieme lo sto condividendo anche con il consiglio che esprime ovviamente formalmente il parere sulle proposte di delibera sono pronto diciamo più o meno anche domani mattina è peccato che a noi non sono ancora arrivate formalmente le proposte di liberazione se non arrivano formalmente non decorrono i giorni e non possiamo fare i passaggi che occorrono all'interno dei municipi Assessore mi perdoni neanche quella di Giunta l'è arrivata no questo è molto strano guardi per essere sicuro e per non dire sciocchezze perché lei sa che ci confrontiamo anche con idee diverse però mi dispiace dire delle sciocchezze mentre è cominciata la commissione ho fatto un'ulteriore verifica con gli uffici per essere sicuro che magari fosse arrivata questa mattina anche perché ripeto non c'è un problema noi abbiamo le commissioni anche lunedì prima non è che facciamo ponte per cui per accelerare al massimo siamo assolutamente concordo su questo con il ragionamento sulla responsabilità dei municipi che faceva prima per cui noi siamo prontissimi però a noi non sono ancora arrivate io non so che dirle solleciterò anche io il servizio però come di più di questo non posso fare ripeto sono pronto le ho già lette le ho condivise intanto con la commissione commercio del municipio lo condivido con il consiglio intero in maniera tale che tutto avvenga nel più breve tempo possibile però mi deve arrivare formalmente non posso esprimere come lei sa come sanno anche gli altri consigliere non posso esprimere il parere su una cosa che esiste ma che ancora non mi è formalmente arrivata se potessi lo farei perché condivido quello che diceva il presidente Piga sull'assoluto rurgenza come ho voluto dire anche in altre commissioni precedenti di questo provvedimento io concordo anche col consigliere Pelunzi sul fatto oggi avete questa capigruppo importantissima di definire un testo perché a quel punto al di là dei testi quando arrivano è importante che arrivi soprattutto il testo intorno al quale verranno fatte le modifiche per essere approvato nella disciplina straordinaria altrimenti il municipio deve anche esprimere parere sulle cinque proposte di delibere che ci sono però insomma mi sembrerebbe un modo dell'amministrazione complessiva di agire un po' schizofrenico io poi continuo a dire non capisco l'in più della sua delibera sulla disciplina ordinaria lei l'ha spiegata ma io come dire le ripeto ogni volta il DPR sulle pedane i tavolini io ripeto ogni volta la legge di bilancio nazionale che impiega 30 commi 30 commi del contesto complessivo per ridare le linee guida per tutti i canoni e da tempo ai comuni entro il 31 dicembre 2020 di rifare il regolamento sui canoni tanto varrebbe converrebbe concentrarsi su quello piuttosto che su fare una modifica che varrà al massimo per 5 mesi per alcune giuste anche come dire esigenze di riforma del regolamento GOSAP ma che troverebbero meglio e più complessivamente in un testo che riguardi tutti i canoni un'ultima cosa soltanto volevo dire perché mi ha particolarmente colpito mi dispiace che l'assessore Cafrotti sia andato via la questione sulle fake news io non lo so a che cosa si riferisse le fake news mi pare che nessun gruppo politico abbia come dire diffuso fake news forse se invece io sono d'accordo con quello quando si dice meno più fatti meno chiacchiere se si fossero fatte meno chiacchiere nelle settimane passate forse gli imprenditori sarebbero meno convinti di cose che ancora non ci sono nel nostro municipio ci sono cinque domande presentate a oggi su questa come dire disciplina straordinaria delle OSP in seguito all'emergenza covid praticamente tutte sono sulla base di come dire una disciplina che non esiste ma che è stata più volte come dire diffusa attraverso interviste post su facebook come in realtà in generando come dire questa sensazione che la disciplina già c'è e io mi trovo quotidianamente a dover purtroppo smentire al molti ristoratori o bar che vorrebbero presentare questo ampliamento di OSP su regole che ancora non ci sono quindi più come dire meno chiacchiere più fatti sì ma da parte di tutti grazie presidente che Grazie. Presidente Coglia? Presidente? Ho il microfono disattivato, scusatemi. No, 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 perché pensavo che fosse caduta io la linea, che non la sentivo più. Colpa mia, scusate. Dicevo, Assessore Capone, la disciplina è questa qui che ho postato nella chat, che è la delibera numero 87 del 21 maggio, che è immediatamente eseguibile della Giunta, che però, proprio perché era immediatamente eseguibile, non poteva andare oltre i poteri dell'Aula, per cui in parallelo è stata presentata una seconda delibera che passerà nei municipi, che dovrebbe essere arrivata nei municipi, per estendere. Presidente, lo so, lo so benissimo, riconosco tutte e due. La disciplina è questa. No, la disciplina che è stata, come dire, dichiarata più volte, che è oggetto delle delibere che devono essere approvate in Assemblea Capitolina. Se si dichiara che le librerie anche che hanno la somministrazione potranno fare l'ampliamento, è una disciplina che al momento non esiste, però è stato dichiarato, a questo mi riferivo, per cui la libreria mi chiama e mi dice, ah, io amplio domani mattina, metto i tavolini in più. E allora io dico, no, questa disciplina è stata annunciata come... Non è attuale. Eh, è qui, esatto. Io a questo mi riferivo, no, se no la conosco bene, la proposta e quella già vigente di giunta. Vabbè, è il tempo di differimento tra una volontà politica e l'attuazione della volontà politica, che c'è stato anche nel governo, naturalmente, quindi va bene. C'era qualche associazione che voleva intervenire, ho un po' perso il conto degli interventi, mi pare... Avevo chiesto l'intervento... Paolo Molinari, forse c'era prima. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Forse ripeterò cose banali, ma purtroppo il centro storico è... manca dell'85% di clientela che erano gli stranieri, quindi... Oltre alle politiche della maggiore occupazione, bisognerebbe fare degli interventi di politica per riportare i cittadini romani a dell'Interlanda nel centro storico, migliorando la situazione almeno per il weekend, per esempio pensando a un'occupazione maggiore strettamente per il venerdì e il sabato sera, pensando a dei mezzi di trasporto, delle aree di servizio di scambio per le auto e dei mezzi di trasporto in centro, prolungando gli orari dei laboratori, perché chiudendo le attività non è difficile camminare per il centro storico, vedendo che tre quarti dei negozi sono ancora chiusi. E sono ancora chiusi, perché mancando l'85% di utenza, mancando le forme di prevenzione che dovevano pervenire dallo Stato, quale cassa integrazione, finanziamenti e quant'altro, è difficile poter far ripartire un'attività, sia essa alimentare e non. C'è stato il cambio stagione per il settore non alimentare, non sono arrivati a nessun tipo di aiuto da nessuna parte, e quindi secondo me bisognerebbe fare qualcosina di più oltre all'occupazione di suolo pubblico. Poi c'erano delle domande che riguardavano l'aumento dei metri quadri delle somministrazioni. Nel progetto si era parlato dell'occupazione di suolo pubblico differita a 25 metri dall'entrata del negozio. Questa deve essere ancora approvata, vero? Sì. Ok. Per quanto riguarda invece l'occupazione di suolo pubblico e le somministrazioni su area pubblica, alcune attività hanno un'occupazione di suolo pubblico di 5 metri scarsi. Chiedere l'aumento del 35% significherebbe chiedere un metro e mezzo quadro in più. Quello sarebbe praticamente irrisorio, considerando che quelle attività oggigiorno non possono permettersi neanche loro di riaprire, non avendo l'utenza. Quindi si era pensato di chiedere forse qualche percentuale più ampia per questi tipi di attività, ma non per l'attività stessa e quindi ampliare magari il banco, ma per la possibilità di far sottare la clientela in quella attività, quindi mettere dei tavolini, delle pedane anche per questi locali, altrimenti è impossibile che possano riaprire. Di quale tipologie di locali parliamo? L'occupazione di suolo pubblico e la somministrazione. Su suolo pubblico. Sono poche, sono piccole, ma non hanno la possibilità di ripartire in queste condizioni. Ma stiamo parlando di consumo sul posto o di somministrazione? Somministrazione. Ok. Allora, secondo me... Sono 5 metri quadri, io credo che almeno 15 metri quadri ciascuno, ove possibile, li aspetterebbero in modo tale di dare priorità. La misura doveva essere proporzionale al numero di coperti interni persi nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, per cui a mio avviso sarebbe stato più opportuno dire a tutti ti amplio o ti do nuova concessione per il 35% dell'interno, non dell'esterno quando già ce l'hai. Però questa io non ho messo percentuali proprio perché mi sembra insomma uno sbaglio perché non tiene conto di tanti fattori sia del tessuto urbano in cui ci si trova, che dell'attività. Parlo di suolo pubblico però, non hanno spazio interno. Attività di somministrazione sul suolo pubblico. Ah, ho capito, ho capito. Allora, si parla solo di commercio in sede fissa, che io sappia. Se parliamo di commercio sulla repubblica totale, non so se parliamo di chioschi o di altre tipologie, posteggi, è un'altra fattispecie che lì dobbiamo vedere anche se il decreto è intervenuto in merito a questo perché non è così chiaro. Sì, ma sono già le attività che sono state maggiormente colpite. Cioè è già difficile poter lavorare in mezzo alla strada con una pandemia in corso se non gli diamo anche una possibilità di poter sviluppare le proprie attività in un modo diverso e salvaguardando anche la tutela della clientela che magari preferisce stare all'aperto piuttosto che al chiuso in una situazione del genere. Non vedo come queste attività possano ripartire. Eh ma abbiamo detto che il chiuso non c'è in questo caso, quindi non riesco a bene a comprendere la sua osservazione anche se poi valuteremo insomma. Sono delle attività di somministrazione che non possono fare attività di somministrazione attualmente perché non avendo uno spazio pubblico per somministrare alla clientela fanno solamente take away. Invece in questo caso potrebbe essere colta l'occasione per trasformare queste attività e renderle un pochino più adattabili alla situazione, al contesto che stiamo vivendo. Si valuterà tra maggioranza e opposizione. Grazie. Grazie. Ringrazio Presidente. Grazie a lei. Dario Del Buono. Sì, grazie Presidente. Io sarò estremamente calmo perché visto che anche il Presidente Pica ha perso le staffe e di solito è sempre molto controllato, devo rimanere molto calmo. Mi dispiace che non c'è più l'assessore Cafarotti. Questa è la seconda volta che partecipa alla Commissione nel momento più importante perché io ritengo, sì, ci sta bene che lui ci illustra quello che deve dirci e che si confronta col Presidente, magari con chi riesce a farci la domanda. Però se poi non recepisce anche gli interventi di quelli che devono comunque portare qualche cosa a questa Commissione, se intervengono, che senso ha? Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Dicevo Cafarotti perché quando ha detto l'inderogabilità del codice della strada, ma se noi andiamo a guardare i punti per cui la delibera deve passare per l'aggiunta, ci sono molte interpretazioni del codice della strada, perché il codice della strada non dice che le occupazioni di isolo pubblico devono stare a 10 metri dal semaforo o dall'incrocio. È un parere della Polizia Locale. Quando noi andiamo a notare che c'è il problema della sovrintendenza che cida alcune leggi e non cida quelle che sono a favore delle attività produttive, e io sono ancora con la pelle d'oca quando ho letto la direttiva Ornaghi, è evidente che c'è un problema con la burocrazia perché se la politica continua a demandare ai dipartimenti, alle sovrintendenze, determinate decisioni, soprattutto in periodo d'urgenza, per chiedere non un parere, ma bensì sembra che scenda Mosè con le tavole, allora non riusciremo mai a uscire da questo problema. Ma anche perché da quello che vedo sembra che gli uffici odiano le attività produttive, invece di essere contenti visto che lavorano proprio perché ci sono attività produttive, perché se no non si capisce che altro debbano fare determinati uffici all'interno sia dei municipi che del Campidoglio. Adesso il problema delle interpretazioni è un problema serio, perché ripeto, il codice della strada giustamente deve dettare le norme fondamentali, ma se non c'è una direttiva, perché a questo punto bisogna dare una direttiva che dica bisogna applicare le norme interpretando in questo senso, non usciremo mai da queste impasse. Io dico, non venga la capiglufo che risolva il problema di accelerare la presentazione, però e ribadisco come ho sempre detto in questa commissione, visto che ci sono delle persone che ci vivono in questi problemi e che sono le associazioni di categoria, se le associazioni di categoria fossero sentite prima di fare le delibere, l'esurgenza, prima di fare i legami gruppo, oppure vengono invitati a partecipare per essere audite, probabilmente tanti discorsi si potrebbero evitare di andarle a tamponare subito dopo. E poi ritorno al discorso del decoro. Io non vedo per quale motivo, se la città è viva, se la città è vissuta, se la città offre, oltre che il semplice ammirare i monumenti, anche l'accoglienza, la moda, i negozi. Io non vedo cosa ci sia di così brutto se c'è anche la ristorazione, cosa per la quale siamo famosi nel mondo. Molti vengono non solo per i monumenti, ma vengono pure perché qui si mangia e si mangia bene, c'è una cultura del cibo. Allora dov'è questo problema? Ed è una questione culturale evidentemente, una questione culturale che poi non ho capito perché imperversa nei nostri uffici burocratici. Adesso per fare discorsi concreti, anche all'ultimo intervento, effettivamente dare una percentuale è contrologica, perché se effettivamente noi dobbiamo, abbiamo il distanziamento, quindi i tavolini già delle occupazioni che ci sono vanno a ridursi perché ampliando lo spazio che deve esserci fra le persone che consumano si riducono i tavolini. Se noi diamo un 35% su occupazioni irrisorie oppure 35% dell'interno, ma se io all'interno prima avevo un tavolino dove ci mettevo 6 persone e adesso ce ne posso mettere solo 3, è evidente che ho il 50% in meno della possibilità di lavorare. E se io già tra PMO, concorrenza, difficoltà ad entrare al centro, problemi di parcheggi che sono in tutta Roma, già ero a marginale perché praticamente per riempire il locale dovevo faticare tanto e mi sembra evidente che adesso se io do solo il 35% non copro nemmeno quello che ho perso come incasso. Allora che senso ha dare il 35% all'interno? Se fuori può avere un senso perché dici beh se no si allarga troppo, ci sono anche gli altri che stanno vicino, anche se effettivamente uno quando c'ha l'occupazione di 5 metri quadri con il 35% ci mette un tavolino, ma almeno il 50% di quello che è l'occupazione interna. Perché se non si arriva a questo non si risolve il problema. E il problema qual è? Che questi poveri disgraziati non aprono perché se aprono perdono più di quello che stanno perdendo. Perché poi faccio notare che siccome le caratteristiche non vengono erogate ancora, chi sta mantenendo i dipendenti, pure se è chiuso, sono sempre i datori di lavoro. Quindi anche dover affrontare delle spese per fare occupazione solo pubblico. Non è certo il caso di andare a comprare tavolini, quindi il discorso di soprassedere al maledetto catalogo degli arredi. Perché lo dico maledetto? Perché è un problema di libertà, di espressione, di concezione. Tu mi puoi dire non voglio la formica, non voglio il ferro, non voglio il legno, ma non mi puoi dire il colore, la forma della sedia e tutto quanto. Perché non ha senso. Si va contro anche l'espressione del locale e il motivo per cui io, come cliente, devo scegliere un locale rispetto all'altro. Ma qui le mie sono parole di libertà, libertà di intrapresa. Ma qui stiamo a discutere se si può superare un vincolo burocratico dove c'è la dittatura della burocrazia. Anche alla risposta a Capone che ha dato, presidente, dove dice sentiamo quello che dicono gli uffici. Perché se ragioniamo secondo logica non basta. No, qui bisogna tornare a ragionare secondo logica. Perché se non si torna a ragionare secondo logica non si fa l'interesse perché l'economia è realtà. Le aziende sono sul territorio. Se non si capisce questo la politica a che serve? Abbiamo perso tutto, tutto, completamente tutto e ribadisco. Io capisco che siamo nella terza repubblica, io verrò dalla prima, avrò vissuto la seconda e visto pure nascere questa terza. Ma almeno nella prima repubblica c'era un continuo confronto con le attività produttive da parte della politica. Quello che adesso è un continuo confronto con gli uffici. Scusatemi, avevo detto che sarei voluto rimanere calmo. Quindi ribadisco il problema dell'interpretazione per il codice della strada. Ribadisco il superamento delle distanze dai palazzi vincolati. Perché se un turista che viene a Roma riesce a vedere Fontana dei Trevi, non penso che se non vede tutto libero un palazzo che è schifo non c'è decoro in questa città. È il problema delle strisce blu, delle pedane. Siamo sempre soli del discorso. Il 50% almeno. Visto che dovete fare una capigruppo e dovete unificare tutte le proposte, portatele al 50% almeno. Grazie. Io ho finito. Sono io che sto discollegato? Qualcuno? No, sono sempre io che ho disattivato il microfono e quindi ho dimenticato di riattivarlo. La ringraziavo e dicevo sicuramente andremo avanti in discussione in capigruppo e penso anche nei municipi per poter dare pronta attuazione a quelle estensione della delibera di giunta che è necessaria per salvaguardare le attività produttive e i posti di lavoro che garantiscono i loro dipendenti. Penso che questo sia interesse primario di tutti i consiglieri. Quindi trascorse quasi due ore dall'inizio. Vedo prenotato Paolucci ma gli chiederei proprio un intervento di 30 secondi perché siamo veramente oltre il tempo limite. niente non lo vedo più allora procederei all'appello finale Marica. non posso intervenire, chiedo scusa, sono un po' di tempo, Sbraga. Ah Sbraga, ha ragione, lei se l'ha prenotato, prego Sbraga. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti i miei consiglieri, sarò estremamente sintetico. Io devo dire, devo fare un veloce quadro di contesto perché ho la sensazione che siamo tutti consapevoli di quella... Sì, pronto? Un attimo solo che adesso sta servendo Sbraga, poi le do la parola, Paolucci. Grazie, senti di dire. Sì, solo per dire un quadro di contesto. Noi come settore abbiamo perso già 300 milioni di euro nel primo trimestre, 900 li perderemo nel secondo trimestre, quindi ormai siamo quasi, manca un mese soltanto, e almeno altri 700 nel secondo semestre dell'anno. Quindi questo fa un totale di 2 miliardi di euro, che per il settore vuol dire il 40%. Ma siccome tutti diciamo che abbiamo grande contezza e consapevolezza della drammatica situazione in cui versa questo settore, ma naturalmente non siamo gli unici, ci sono anche altri, ma tra questi noi siamo sicuramente il settore più esposto, per i motivi che abbiamo detto più volte. Allora, un intervento veloce, tempestivo, concreto, che dia la possibilità alle imprese di avere la compensazione che oggi, di cui hanno bisogno, viste le misure di distanziamento, è assolutamente interrogabile. Questa è l'unica cosa interrogabile. Siamo partecipato con grande interesse e vi ringrazio per questa opportunità ai dibatti, alle commissioni, agli incontri della commissione, però mi pare che si manifesta sempre la volontà di accelerare, ma poi non si arriva alla conclusione. Addirittura scopriamo che probabilmente non sono ancora arrivati ai municipi, speriamo che non sia così, che ci sia qualche errore nella conoscenza di queste cose, ma scopriamo che magari non sono arrivati ancora gli atti ai municipi per il parere. Poi i municipi si prendono tutto il tempo che hanno a disposizione senza capire che c'è una necessità assoluta di arrivare alla conclusione. Poi aggiungo un'ultima cosa è tutto. Mi sento a volte anche un po' fuori posto in questo dibattito perché mi sembra di dover richiamare in qualche modo tutti ad un fatto, alla consapevolezza che noi siamo ancora dentro un contesto di contenimento, ci sono misure di distanziamento interpersonale, di non assembramenti e sembra a volte che questo sia finito, che abbiamo chiuso la fase 1 archiviata, siamo entrati in una fase, immediatamente nella fase 3. Non è così, i ristoranti devono rispettare dei vincoli, che sono quelli del distanziamento, devono rispettare, hanno comprato tavoli nuovi, hanno messo in modo una serie di misure. Adesso sento parlare di occupazione sullo pubblico senza nessun vincolo, addirittura a posti che non hanno neanche lo spazio interno. Allora, ci rendiamo conto che Seul ieri ha chiuso di nuovo l'attività per 80 casi. Questo problema lo deve richiamare uno che rappresenta un'associazione di categoria o un problema che deve stare soprattutto nell'attenzione della politica. Perché noi non vogliamo ritrovarci domani con una chiusura di nuovo perché ci sono dei casi, perché ci sono situazioni in cui non si rispetta il distanziamento, per ragioni oggettive, per cui si dà lo spazio senza nessun presidio, senza che ci sia del personale. Tenete presente che le aziende che chiedono oggi maggiore spazio sono quelle che per lo più hanno spazi interni che costano migliaia di euro ogni mese e che hanno bisogno di lavorare all'esterno per poter pagare l'affitto interno. Quindi questa cosa va gestita con attenzione, sono le stesse imprese che hanno personale che domani, oggi sta in esupero perché non viene occupato all'interno per la riduzione degli spazi. Allora, vogliamo salvare questo patrimonio o vogliamo utilizzare questa occasione per lontana libera tutti, fuori da ogni cosa, perché francamente non si capisce questo meccanismo dell'occupazione di suono pubblico senza alcun presidio. Io non lo sto facendo per ragioni competitive, non è questo il punto, ma noi vogliamo che questa fase 2, se c'è una fase 2, perché se non c'è allora togliamo tutto, ritorniamo al no al distanziamento, no agli assentamenti senza problemi. Però dovete dircelo se questa fase 2 è già superata. Grazie Presidente. Grazie Sbraga. Secondo me siamo andati anche un pochino fuori tema, però ci sta, insomma, sta nella dialettica e nel confronto con le associazioni che sicuramente sono sollecitate quanto gli operatori e indirettamente anche noi lo siamo in questo momento in cui cerchiamo di fare tutto il possibile per rispondere in maniera breve alla cittadinanza, nonostante ci sia un tempo burocratico che è impossibile abbattere almeno per un comune. Paolucci, per favore, 30 secondi. Presidente, chiedo conferma se mi sente. Sì, la sentiamo. Però, vede, è una costante. Io con molta serenità ho ascoltato gli interventi. Oggi lei sta di nuovo con un ometro nei miei conti. È una costante. Ho delle cose molto importanti da chiederle. Paolucci, lei sta sprecando il suo tempo per fare questo lamento che ho sentito anche l'altra volta. Parlici. Questo è un modo di fatto, Presidente. La facoltà, io la ringrazio che mi dà la facoltà. Ascolti, noi abbiamo dei problemi a livello centrale, a livello dipartimentale. Dal momento stesso che con le connessioni, le comunicazioni e anche i telefoni a volte che quando squillano non c'è risposta, lei dovrebbe gentilmente interfacciarsi con il direttore dell'area mercati o addirittura col direttore dipartimentale, perché a tutt'oggi abbiamo dei problemi di ricezione, documentazioni da parte del dipartimento. So che lei, eventualmente, diciamo che io non sono nel dipartimento, non so come organizzarmi. Però siccome c'era una sua fedelissima, una sua segretaria, che comunque è lì al dipartimento, potrebbe gentilmente magari avvertire una sua persona di fiducia che può, come dire, almeno metterci nella condizione di ricevere la documentazione che gli operatori che sono su un'area pubblica, aspettano di diritto, che abbiamo tutte le difficoltà, faccio sempre questa premessa, ma qui sta passando adesso anche il mese di maggio e addirittura c'è qualcuno che nel mese di maggio non ha ricevuto il proprio turno di lavoro. E ovviamente questo io lo lamento nella prima opportunità pubblica utile, quindi gentilmente la raccolgo alla mia lamentela, ma non a livello personale, ma a livello organizzativo. Ovviamente io dico, se la burocrazia, perché avete messo al forno diverse delibere, diverse modifiche, non ultima, addirittura qui si parla, anzi il dipartimento, voi stessi o l'assessorato, parlate di nuovo della modifica 29. Cioè siamo a distanza di due anni addirittura per una riscrittura integrale solo e esclusivamente per, non so, penso appropriarsi, oppure esattamente per decidere su una manifestazione di Natale. Poi rispondite, mi dico questo, qual è il panorama da qui a un anno? Quale altro colpo di spugna effettualmente dovremmo aspettarci da, diciamo, da questa partita dura, perché cambiare un regolamento in due anni, tre volte, è come iniziare una partita di calcio e cambiare tre arbitri praticamente con dei regolamenti personali. Io, adesso siamo di massima emergenza, tutte le rappresentate sul suo pubblico di somministrazioni e quant'altro stanno chiedendo, io ho tempo a fare, dissi anche un'altra cosa, ma guardate, quando voi avete detto sostendiamo il contributo perché sarà annullata e poi magari abbiamo risorse economiche, avete commesso magari una cosa che poi in realtà oggi, quindi in tempi non è possibile, non è praticabile. Io voglio certezze da parte di quando lei fa comunicazione, ma veramente ci dia delle certezze perché già di propaganda in periodo le fanno abbastanza, però mi dica la risposta, ma proprio con fermezza e con la sua responsabilità della risposta. Questa benedetta cosa, cosa pensare, avete intenzione di cancellare anche nel momento la cosa, cioè l'invista, l'invista, l'invista e l'invista. Ci siamo persi l'ultima frase perché si sente bassissimo. Tari, avete intenzione? No, dico, avete intenzione di cassare, di chiudere, di cancellare la richiesta, ma tassa c'è. Ma lei, prima di fare una domanda, le ha lette le proposte dei vari soggetti? Io ho letto tutti i documenti e fino a oggi sembra che è soltanto una richiesta, noi abbiamo bisogno di atti concreti, non di richieste. No, le proposte di delibere che sono atti, quindi quando vengono votate, sia quella di giunta che la mia, contengono la cancellazione delle rate residui della COSAP, quindi vuol dire che lei non le ha lette. No, no, io le ho lette, io non le ho lette, viene e fa una domanda su cosa si potrebbe fare, possiamo stare qui a fare 100 commissioni senza ottenere nessun risultato. Questa commissione, come le altre, sono mirate, come l'ordine dei lavori oggi, alla modifica del regolamento della OSP e COSAP che sia temporanea o permanente. La modifica della 29 di giunta, cui si riferiva lei, ne tratteremo in una specifica commissione, perché dovrà passare il parere comunque in commissione prima di andare in aula. Quindi è un altro discorso. Non possiamo parlare di tutto il commercio oggi, come prima abbiamo parlato del catalogo dell'arredo, che tocca questo argomento anche se non è di diretta competenza questo argomento, perché il catalogo dell'arredo di solito è proprietario dell'aggiunta, a meno di modifiche dell'assemblea. Quindi a me fa piacere parlare apertamente di tutto, ma già la complessità di queste delibere implica un'attenzione particolare e questo stiamo cercando di fare. Poi dovete avere presente una cosa, i soggetti con cui parlate. Io sono il presidente della commissione e qui ci sono i commissari della commissione commercio o politici. Noi nella scorsa commissione avete fatto presente la stessa problematica che avete ribadito oggi e noi abbiamo scritto al dipartimento chiedendo una migliore comunicazione, ma noi non siamo il dipartimento, né interagiamo direttamente con il dipartimento. Quindi chiedetelo al dipartimento, chiedetelo all'assessore e a noi l'avete già chiesto e abbiamo sollecitato, ma non siamo noi che non stiamo rispondendo. Quindi lo faremo ulteriormente presente al dipartimento. Io per questo non ho un gruppo, se lei prende dei provvedimenti che vanno... ...e a centinaia di persone in un momento così delicato, non avendo tutto questo personale. Quindi dobbiamo anche comprendere che forse se qualcuno cerca di contattare in via telefonica al dipartimento sarà difficile. I cambi turno a me risulta che siano stati inviati, perché così ha detto il direttore Berlusi nella scorsa riunione, ma non possiamo entrare noi nelle specifiche del dipartimento, perché facciamo un altro mestiere, possiamo fare i solleciti e li stiamo facendo. Sì, è l'unico punto pubblico dove eventualmente parlare con l'amministrazione per fargli capire che ci sono delle problematiche anche di questo tipo. La possiamo mettere nelle varie ed eventuali questa discussione. Per carità, noi però se abbiamo sollecitato una settimana fa, possiamo anche risocellecitare, ma non penso che sarà risolutiva come questione. Io le dico che ci sono degli operatori che ancora devono avere il turno in maggio giugno, poi veda lei. Io le suggerisco intanto di mandare, se non l'ha già fatto, una comunicazione al dipartimento in copia all'assessorato e alla presidenza della commissione. Sì, lo farò di nuovo, questo è un ottimo consiglio che ho già fatto, ma adesso le mando anche alla copia. Io poi prendo quel sollecito e lo userò per fare un ulteriore sollecito. Bene, grazie, buon pranzo a tutti signor. Grazie. Allora, grazie a tutti per la presenza, farei l'appello finale da parte di Marica, grazie. Allora, Ardu Francesco, Ardu, Bordoni Davide, presente, eccoci qua. Coi Andrea, sì, sono presente, salve. Allegretti per Guerrini, Roberto Allegretti presente. Meloni, Giorgia, consigliere Corsetti per Palumbo. Grazie, eccomi, scatta il video ma ci sono. Ok, eccomi, eccomi, grazie. Penna, Carola? Presente. Grazie. Ardu presente, eccomi. Ah, grazie. Politi, Maurizio? Politi, Simonelli? Simonelli, eccomi, presente. Arrivederci a tutti. Grazie. Consigliere Sturni che sostituisce Stefano? Presente, Angelo Sturni, grazie. Grazie. Pelonzi è uscito alle 11.34 e poi consigliere Ficcati che sostituisce Seccia. Esatto, grazie. Senta, scusi, posso intrattenerla un attimo? Siccome lei è entrata quando avevamo già votato i... 11.37. No, sì, volevo sapere, in merito, volevo chiedere di pronunciarsi sui due verbali che erano stati approvati prima del suo ingresso. Quello è del 5 febbraio o del 22 aprile? Mi pronuncio ora ai verbali che avete approvato prima? Sì, grazie. Va bene, favorevole, quindi. Favorevole. A entrambi, quindi? Sì. Va bene, la ringrazio. Allora, Presidente, ancora chiudiamo... Signora Marinacci, in merito, è verbale, allora anch'io approvo, non ero presente. Signore Simone. Ah, già, è vero, è vero, grazie. Quindi è favorevole anche del fatto, è vero. La ringrazio. Grazie a lei. Allora, a che ora chiudiamo, Presidente? 13.15. 13.15, grazie. Grazie a te, Marika, grazie a tutti i consiglieri e le persone che sono state presenti, questa accesa discussione che deve portare nel più breve tempo possibile a una soluzione adeguata per la salvaguardia delle attività produttive. Buona giornata. Arrivederci a tutti, grazie Presidente, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.